In questa puntata, difesa civica, confronto sulla conciliazione nel settore idrico, intercultura premiazione in Consiglio regionale, 500 lettori partiti per il Salone del Libro di Torino, il libro di Ugo Bardi sul futuro del trasporto. Per quanto riguarda l'acqua, cresce il ricorso dei cittadini toscani alla conciliazione extragiudiziale, soprattutto per fatture e addebiti per perdite occulte a valle del contatore. Lo rendono noti tre soggetti a disposizione degli utenti, Difesa Civica Toscana, Autorità Idrica Toscana, AIT, e Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente, ARERA, che hanno organizzato una tavola rotonda a Firenze per presentare i dati dell'attività svolta nel 2023. Questa mattina ospitiamo come difensore civico questa tavola rotonda sulla conciliazione nell'ambito del settore idrico. È un'attività per noi molto importante e servirà oggi per fare il punto sulla situazione, quali sono i dati, il procedimento. Il difensore civico attraverso i suoi funzionari svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano e proprio ieri in occasione dell'illustrazione della relazione annuale abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di AIT. Anche i numeri sono soddisfacenti perché su 153 richieste di conciliazione 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico e quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Quindi sarà una bella occasione anche per ribadire il nostro impegno su questa attività. Oggi si illustra quella che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime che è quella del sistema della conciliazione con un organismo appositamente creato in Toscana gestito dall'autorità etica toscana insieme al difensore civico e ai gestori del servizio idrico integrato e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione di servizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione nelle risposte dei gestori di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo appunto. Una rappresentanza degli 88 studenti toscani che hanno vinto il concorso Intercultura sono stati premiati nell'auditorium Spadolini. I ragazzi si sono guadagnati una borsa di studio per trascorrere un periodo scolastico all'estero. La Toscana è protagonista di uno scambio interculturale straordinario. Oltre 130 ragazzi toscani che avranno un'opportunità di frequentare le scuole all'estero. Nel contempo altri ragazzi stranieri verranno in Toscana e studeranno ospiti delle nostre famiglie. La Toscana è una terra aperta in grado di crescere mediante l'interscambio culturale ma soprattutto a crescere. Sono i ragazzi e le ragazze toscane che godono di un'opportunità straordinaria che noi premiamo in Consiglio regionale per dare loro questo beneficio, questo risalto di un'iniziativa, quella dell'intercultura che vive da molti anni nel nostro territorio sul livello nazionale e che oggi la Toscana vuole premiare per riconoscere la grande valenza di natura culturale. Questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con intercultura da tutta la Toscana. E loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. Quindi noi pensiamo che questo possa dare un valore aggiunto al territorio, nel senso che quando torneranno potranno anche portare un contributo di confronto con tutti i loro compagni, con le famiglie, con gli amici, con tutta la comunità scolastica qui in Toscana. Il progetto prevede che anche Intercultura ospiti in Italia studenti da tutto il mondo e quindi noi ci aspettiamo in Toscana più di 30 studenti che vengono dall'Asia, dall'America Latina, dagli Stati Uniti e che verranno ospitati in famiglie toscane e andranno a scuola. Anzi, questa opportunità di far vivere e conoscere la Toscana a questi studenti da tutto il mondo è ancora aperta e quindi invito tutte le famiglie toscane che hanno interesse e l'idea di ospitare un'altra persona che viene da un'altra parte del mondo, di aprire le loro porte e di far conoscere sia il progetto educativo di Intercultura sia poi il territorio nel quale viviamo e che tutti apprezziamo. Sicuramente è un trampolino di lancio per il loro percorso futuro. Cominciano all'età di 15-16 anni a vedere un'altra parte del mondo, a capire che lontano può essere anche poco al di là di casa loro e a apprendere come una cultura diversa possa cambiargli completamente la vita. E da lì rientrare è un gioco da ragazzi, devo dire, perché poi ogni percorso e ogni ostacolo del futuro si affrontano con uno spirito diverso. I ragazzi partono per l'Europa, per programmi dall'estivo fino all'annuale, quindi l'intero anno scolastico, ma abbiamo anche dei programmi in Asia, in Oceania e quindi anche Africa, America del Nord e America del Sud. Abbracciamo tutto il mondo, devo dire, con questi programmi. La selezione Intercultura intanto si svolge nel mese di novembre di ogni anno. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Quest'anno partiranno circa 2000 studenti e sono stati selezionati da tutte le scuole d'Italia e chiaramente partiranno quelli che sono più meritevoli e più idonei a questo tipo di programmi. Con a bordo 500 passeggeri lettori è partito lo scorso sabato dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze il primo treno dei lettori toscani diretti al Salone Internazionale del Libro di Torino. I passeggeri lettori, con una corsa alla prenotazione che ha fatto il tutto esaurito in 12 ore, sono riusciti a conquistarci un posto gratuito su una delle sette carrozze del convoglio speciale. Devo dire che in questo momento siamo tutti un po' emozionati e soddisfatti e devo dire soprattutto per il grande lavoro che tutto il nostro personale ha fatto. Non era una cosa semplice, è stata un po' una follia, però l'entusiasmo delle persone, la passione per questa esperienza, il fatto che tanti abbiano tirato fuori un libro dalla borsa e si siano messi a leggere appena il treno è partito ci ha compensati di tanta fatica organizzativa e ha dato senso a questa prima volta per la Toscana. Io credo che sia fondamentale puntare sulla lettura e che dobbiamo usare ogni mezzo per invogliare i nostri cittadini a riprendere questa pratica, a riprendere questa abitudine che è una grandissima risorsa per la loro vita quotidiana. Questo è un modo pop, allegro, bello, un po' faticoso da organizzare per portare tutti a quella che è la Kermes più importante del paese in ambito di editoria e di filiera del libro in generale. Abbiamo tutti, abbiamo gli editori allo stand della Toscana, abbiamo gli autori con noi sul treno e al nostro auditorio, abbiamo i lettori e abbiamo anche un treno che ci porta, quindi più di così non si può deciderare nulla. Sono veramente grata e soddisfatta per il lavoro che abbiamo fatto fin qua. No, bellissima. Tra l'altro è obiettivamente unica, no? Perché è un progetto che a livello nazionale credo non sia mai stato realizzato, per cui un'opportunità doppia. Come lettore perché amo viaggiare attraverso la lettura dei libri, come scrittore perché amo viaggiare attraverso la scrittura, perché come sappiamo tutti, insomma, il libro è un po' una porta che si apre sui mondi e quindi viaggiare sapendo di essere ospite di un progetto unico come questo è una grande occasione. È una Toscana da leggere, tantissimi lettori su questo treno che porterà Torino a Lingotto per il Salve Internazionale del Libro di Torino. una prima volta che vengono impegnate tantissime risorse per poter raccontare quella che è la Toscana da leggere. Tanti progetti, tante iniziative che dalla Toscana oggi proprio portano la loro conoscenza, sapienza e esperienza al Salone del Libro di Torino e con loro tantissime persone, oltre 450 persone che sono salite a bordo e che in questo momento stanno viaggiando per arrivare a Torino. Noi racconteremo la Toscana da leggere. Questa iniziativa del Consiglio regionale della Regione Toscana e della Regione Toscana è una prima iniziativa, una prima edizione e quindi questo viaggio di andata racconterà quali sono i progetti che oggi avremo allo stand della Regione Toscana quali sono i progetti che insistono sul territorio della Regione Toscana e avremo anche le testimonianze delle autrici e degli autori che sono qui sul treno ma anche di chi sta viaggiando perché l'idea è anche raccontare l'emozione del viaggiare con la Regione Toscana per arrivare al Salone del Libro e quindi testimoniare una Toscana da leggere. Con me c'è Frida che è già un'avida lettrice e quindi ci fa davvero piacere fare questa esperienza di famiglia essendo tutti appassionati lettori al Salone per noi sarà la prima volta e quindi è davvero una bella occasione di trovarsi qui sul treno dei lettori. Credo che sia un elemento fondamentale per liberare la fantasia prima di tutto scoprire, viaggiare anche attraverso le parole, i disegni e perché no anche per imparare le storie di personaggi che siano di fantasia ma anche personaggi veri sin da piccolini se narrati in un modo originale e fantasioso sono l'occasione per avvicinarsi sia a un mondo fantastico ma anche poi a quella che è la realtà, la storia e il contesto in cui viviamo oggi. Quindi ogni sera abbiamo il rito di leggere due o tre librini e speriamo di continuare così. Ma diciamo che sia una prima volta credo che possa essere sicuramente una bella esperienza visto che comunque non c'è stata mai l'occasione per andare al Salone di Torino e quindi abbiamo colto l'occasione che ha messo a disposizione la regione toscana per poter essere all'interno di questo treno di poter utilizzare, soffrire di questa opportunità e siamo molto curiosi di vedere come sarà il Salone del Libro come sarà l'Ingotto, come sarà Torino è una bella giornata e quindi siamo particolarmente contenti di essere qui dentro e siamo molto contenti appunto che la nostra regione abbia creduto in questo progetto abbia finanziato questo treno e abbia messo a disposizione di tanti lettori di tanti appassionati questa opportunità. Il futuro ma anche il presente dei veicoli elettrici è la sfida di una nuova mobilità che faccia meno dei combustibili fossili i nuovi servizi di car sharing sono al centro del libro Il futuro del trasporto come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita di Ugo Bardi presentato a Palazzo del Pegaso Uno dei tratti maggiormente interessanti dal mio punto di vista di questo libro è che ad esempio vengono forniti elementi di valutazione rispetto anche a quelle che potremmo definire le fake news piuttosto che le narrazioni spesso strumentali come dice il professor Bardi rispetto a questo argomento quindi è un libro ben scritto, interessante e che offre appunto un'occasione per avere elementi di valutazione e noi siamo ben lieti di ospitare anche questo tipo di approfondimento e di dibattito per permettere a tutti di farsi un'opinione È una rivoluzione, è il punto focale, è il punto centrale del dibattito che stiamo facendo oggi se parliamo di transizione verde dobbiamo in qualche modo eliminare l'uso dei combustibili fossili ora il mezzo elettrico non necessariamente un'automobile ma in parte anche sia un'automobile è il punto focale della transizione perché se non ci liberiamo del combustibile principale cioè quello che dà i maggiori profitti all'industria petrolifera all'industria dei combustibili fossili quello che è il petrolio dal quale si fa benzina e gasolio a quel punto non avanzeremo veramente nella transizione quindi questo è il punto centrale e anche la ragione perché c'è tanta pubblicità denigratoria nei riguardi delle auto elettriche è perché funzionano e sono un rischio per quelli che oggi hanno i loro profitti sul petrolio grazie a tutti Grazie a tutti.